Se c'è una cosa che sono riuscito a fare negli ultimi anni lavorando in questo settore bellissimo, cioè quello della riconquista, è stato introdurre un concetto molto molto semplice dal punto di vista cognitivo altrettanto complesso dal punto di vista dell'azione, di quello che effettivamente bisogna fare, ed è il concetto della riabilitazione emotiva. Qual è il punto? Il punto è che il no contact brutale, quindi mi distacco da lei e per un mese guardando il calendario non le mando nessun tipo di messaggio, può effettivamente portare dei risultati nel breve periodo, ma nel medio e lungo termine ci sono delle cose che il no contact non può sistemare. E soprattutto il no contact non è assolutamente la panacea di tutti i mali, ma anzi possiamo definirlo un po' un effetto placebo. Quello che effettivamente ha un peso specifico è la riabilitazione emotiva, quindi il riuscire a riabilitarsi emotivamente in relazione a un trauma, a un profondo dolore che abbiamo subito, perché guardiamoci in faccia e parliamoci molto chiaro, questo dolore noi lo abbiamo subito. Non è un qualcosa che siamo andati in cerca attivamente, ma è un qualcosa che ci è arrivato tra capo e collo. E in questa determinata fase molte persone che anche seguono poi il mio percorso mi fanno questa domanda, ma com'è che io ho dei picchi ma allo stesso tempo magari emotivamente in alcuni momenti sono un po' più down e quindi c'è questa sinusoide che in qualche modo va a governare i miei stati. Com'è che posso riuscire a stare sempre bene a prescindere da tutto? Bene, in questo video trattiamo proprio questo argomento. Intanto se non mi conosci io sono Teo e aiuto gli uomini come te nel loro difficile percorso di riconquista. Se sei interessato a questi contenuti e vuoi rimanere aggiornato ti invito ad iscriverti al canale e ad attivare le notifiche. Se vuoi entrare in contatto con me, guarda giù in descrizione e troverai un sacco di materiale utile alla tua situazione specifica. Come faccio a stare sempre bene? Quindi questa è un po' la domanda che riecheggia nelle varie comunicazioni, nelle vari scambi che a volte ho anche con dei miei clienti. Bene, intanto partiamo un po' dal filosofeggiare, nel senso che lo stato di perenne beatitudine non esiste. O stai ubriaco tutti i giorni e ti cali in vena il chianti, o in alternativa stare perennemente con l'energia al massimo, con uno stato d'animo esplosivo, costantemente diciamo che è un po' un utopia, ok? Cioè non è una roba che arriva così. Qual è il punto? Il punto è che è normale che ci siano degli alti e dei bassi, ed è proprio questo la vera capacità che un riconquistatore professionista sviluppa. Perché c'è il riconquistatore dilettante che semplicemente sta lì, grunisce tra sé e sé, non fa un cazzo, e quando rientra in contatto con l'altra persona, proprio forte di questa sua ambivalenza, di questo suo contrasto interiore, per i primi due o tre scambi, di per i primi due o tre messaggi, riesce a rimanere centrato, appena la donna che hanno di fronte provoca, o comunque manda quella frecciatina, c'è subito lo scatto impulsivo, lo scatto d'ira, lo scatto dell'accusa e via dicendo. Mentre il riconquistatore professionista sa stare. Qual è il punto? Qual è la differenza sostanziale, a mio avviso, quando si tratta di queste dinamiche? È proprio il saper stare. Il saper stare è la migliore delle tue opzioni, delle tue possibilità, perché stare nelle emozioni fa tutta la differenza del caso, perché comincia a conoscerti. Se fai parte del genere maschile, se sei un portatore sano di pisello, come la maggior parte dei miei clienti, anzi direi tutti, è come tanti di loro vivono in un mondo iperlogico, perché tanti miei clienti magari sono avvocati, commercialisti, gente che ha a che fare con i numeri, con la programmazione, eccetera. Bene, nel flusso emotivo le persone sono poco abituate a starci dentro. Quindi io sento delle emozioni e cerco di rifugiarmi nella logica, nell'andare a dare una definizione, anche semplicemente lo stato del benessere e del malessere, quindi lo sto bene o lo sto male. Però ti spoilero una cosa. Quando tu senti, anche a livello di pancia, anche a livello di petto, a livello fisico, determinate emozioni, beh, il tuo corpo sta agendo in un modo che già conosce. Cioè, quella sensazione che tu provi alla pancia è la stessa sensazione che provi quando sei felice e anche quando sei triste. Quello che cambia è a monte il significato. Questo lascia un presupposto bellissimo, immenso di fronte a noi. Cioè, sapendo che quello che cambia è il significato, possiamo intervenire su tale significato. E allora cambiamo a valle quello che è lo stato emotivo. Ecco perché io sostengo sempre che bisogna viverle le emozioni, non scappare. Non appena, un attimo, io mi sento destabilizzato, boh, comincio a rimuginare, no, devo uscire fuori da questa cosa. No, stacci dentro. Anche perché se fai un buon processo di riabilitazione emotiva, che cosa accade? Accade che tu magari inizialmente stavi male una settimana intera e poi stavi bene un giorno. Cammin facendo magari hai cominciato a star bene tre giorni su quattro. Magari poi dopo sei giorni su quattro. E magari a oggi ti sei ritrovato a stare bene comunque, a stare tranquillo, in pace con te stesso. Sei giorni su sette. Magari c'è quel giorno durante la settimana, la domenica, che magari sto da solo in casa, in una casa vuota dove c'è solo un silenzio assordante e in quel momento mi sento vuoto dentro e l'anima mi si dilagna. È normale che sia così. Quindi stai dentro quell'emozione, stai nel sentire quello che stai provando. Lo so che, ripeto, è un filosofeggiare questo. Quando tu però cominci a conosceroti, quindi a sperimentare queste emozioni, a starci, a conoscerle, a imparare che fanno parte di te, a imparare che, cazzo, una volta stavi male una settimana intera, adesso ti capita solo qualche ora. Ho solo quel frangente la mattina quando ti svegli, ho solo quel frangente la sera quando vai a dormire. Bene, comincia a guardare la proporzionalità che c'è a livello di stati emotivi e se ti può aiutare comincia a scrivere. Tornando alla domanda iniziale, come faccio a stare sempre bene? È una domanda del cazzo, perché non si può stare sempre bene. Non è fisicamente possibile stare sempre bene. È normale che ci sono delle alternanze. Ora, è importante capire da cosa sono causate queste alternanze, perché se io mi alterno in relazione a quello che fa l'altra persona, quindi vedo un post, vedo che lei si è taggata, ha fatto il check-in a Parigi, lei in questo momento è a Parigi, cazzo, con chi è a Parigi e quindi comincio a rimuginare. Bene, se il mio stato dipende da questo, allora abbiamo un altro problema. Se invece io sono magari in distacco e con l'altra persona non mi ci sento e ho questa altalena graduale, a volte minimale, a volte un po' più pesante, è normale che sia così, è l'unico consiglio che ti posso dare ed è anche il consiglio migliore che puoi ricevere, è di stare dentro quelle emozioni. Perché nonostante tutto, come disse Freud sul letto di morte, ci ricorderemo dei giorni di guerra, non dei giorni di pace. Quindi vivi con queste emozioni interne, vivi con questa guerra, perché è quello che ti fortifica, che ti crea una corazza, che ti crea un'attitudine e uno stato che in un futuro, in prospettiva, possono aiutarti a ottenere dei risultati spaziali e fenomenali. Ragione ci sopra. Intanto io ti lascio a questo video, che è legato sempre e comunque alla riabilitazione, e noi ci vediamo alla prossima, e mi raccomando, non fare puttanate. Grazie. Ciao.